Edoardo Massia è il nuovo direttore tecnico dello Spezia Calcio in sostituzione di Riccardo Pecini che ha lasciato la società bianca al termine del deludente mercato estivo. Il 48enne spagnolo già in Serie A con la Fiorentina da braccio destro di Daniele Pradè ha firmato un contratto quadriennale con le Aquele ed è atteso in città a partire dalla prossima settimana per iniziare il proprio lavoro. Massia avrà responsabilità sul calciomercato, lo scouting e il settore giovanile. Il nuovo capo osservatore sarà Jakob Fris Hansen, ex nazionale danese. Ma si è iniziato ad operare da scopritore di talenti nel 2001 al Valencia di Rafa Benitez che poi lo ha voluto con sé a Liverpool, ha successivamente lavorato con Olimpiaco Satene, Fiorentina, Betis e Siviglia, Leicester e Girondin de Bordeaux. Siamo lieti di accogliere Edoardo per sostenere il nostro impegno a lungo termine e la nostra strategia di sviluppo del club, Il nostro approccio passo dopo passo per migliorare continuamente prosegue ed Edoardo porterà un immenso patrimonio di conoscenza, esperienze e una profonda rete calcistica per aiutare lo Spezia a progredire a livello successivo. Così il presidente delle Aquele, Filippo Platek. Amassia ha la responsabilità su tutte le aree direttamente collegate all'attività calcistica, compresa la supervisione dei reparti tecnici di scouting. Il fatto che una persona con una tale esperienza di calcio voglia unirsi a noi in questa fase iniziale del nostro percorso è una vera e propria affermazione per il club e dobbiamo essere tutti entusiasti ed uniti per il proseguio della stagione e per quelle che verranno, ha sottolineato Platek. Ma se è ancora in Spagna e diventerà operativo da lunedì 19 settembre, ci aspetta un duro lavoro e tutti noi dovremo fare la nostra parte. Io e la proprietà siamo perfettamente allineati sugli obiettivi a breve, medio e lungo termine e non vedo l'ora di iniziare queste le sue prime parole.